Andare oltre il museo per scoprire i segreti più nascosti della vita dell'antica città di Poseidonia Pestum. Sono tornate così dopo due anni di chiusura a causa della pandemia le visite ai depositi, circa 1400 metri quadri dove sono conservati un milione di reperti. Guida d'eccezione per i visitatori, in alcuni giorni il direttore Tiziana D'Angelo che ha frequentato questi ambienti del deposito fin da quando era studentessa per la sua tesi di laurea. Siamo contenti di poter riaprire le porte dei depositi al nostro pubblico dopo due anni difficili, due anni di pandemia, quindi questo era un progetto che era stato originariamente lanciato nel 2018 e adesso dal 18 giugno di quest'anno lo abbiamo riavviato in forme differenti, quindi siamo oltre il museo. Portiamo i visitatori a scoprire non solo dei manufatti, degli oggetti che normalmente non sarebbero in grado di vedere all'interno del museo ma anche per raccontare loro delle storie tutte diverse, storie appunto di persone, storie di restauratori, di archeologi, storie di culture molto lontane, quindi insomma siamo molto emozionati per questa novità. Visitare i depositi significa vivere l'esperienza unica di entrare negli ingranaggi di una macchina culturale complessa e affascinante, capace di generare emozioni fortissime. Vogliono a tutti i costi sapere come mai abbiamo questo 1400 metri quadrati di depositi e come mai tutti questi tesori non sono esposti. Noi stiamo proprio qui a spiegare che non sono reperti di serie B, anzi sono tutti reperti con la stessa grande importanza.